Grazie a tutti di essere venuti a questo corso. Qui al riparo da Facebook. Perché al riparo? Perché gli argomenti di cui parleremo possono fare arrabbiare tante persone. C'è una certa suscettibilità su quello che riguarda i rapporti tra l'uomo e Dio. Si tratterà di un corso di eternità. Non sull'eternità, di eternità. Su come ci si entra nell'eternità adesso subito.